Leggero aumento dei contagi a Caltanissetta, sono infatti 72 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 291 in tutta la provincia. Sono 640 i positivi a Caltanissetta tra domiciliari e ricoveri in ospedale, 48 in tutto i ricoverati in tutta la provincia, 3 in terapia intensiva. Iniziativa per la vaccinazione per le future mamme, l'8 marzo al lab del CEFPAS si potrà accedere per i vaccini tutto il giorno senza prenotazione.